Io vado da sell, vado da sell perchè mi serve roba Che ne dite? Ci siete tutti? Volete? Voglio uno spam di... Sì Voglio uno spam di sì E poi vi lancio il 3-2-f1 via Per i sub, per i sub Vediamo eh Sì, ok, vai, 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 tutti, tutti, tutti Vai, tutti Ragazzi ci siete? Vi do giusto un attimo Voglio che cominci lo spam di 3-2-f1 via Vai, voglio tutti con 3-2-f1 via Almeno i sub, vai Vai, vai, ancora, ancora ne voglio Ancora, vai, 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 vai Vai, vai Vai, ok 3-2-f1 via, ragazzi 3-2-f1 Fail, via E va la prima E vabbè E la prima già Ce l'hanno affossata, insomma Prima multisummon Aff... Ma che merda che sei Ragazzi, ma questo Ma questo è il meme della baccia Ma guardate pure in che... Sta proprio nella posa di Cell Sta proprio nella posa di Cell N'altro po' Cioè, non proprio in quel... Però sta rivolto verso di là C'erlo in le antennone Maledetto Bah C'erlo in le antenne Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' successo. Grazie Francesco. Grazie per la... Ragazzi, io mi dico la verità. Io non me lo faccio più. Non me lo finisco più il giro. Che me lo finisco a fare questo giro. Non ci credo. Ragazzi, ma che... Ma che multibuggata abbiamo fatto? Ma che multibuggata... Ma che multibuggata... Ma che multibuggata siamo a fa' stasera? Ma che è sta multibuggata? Ma che è sta multibuggata? Ma che abbiamo combinato? Ma che è sta roba? Chi è? Sel AGL. E vabbè. It. Sel LR. Vabbè. Ma che è sta roba? Ragazzi, si è bugato il gioco qua. Ma qua si è bugato il gioco. Oddio santissimo. Guardate, quando io ho visto Fake Out... Vi giuro, ho detto... Mamma mia, sta uscendo un altro Sel. Mamma mia, ho detto... Ecco, sta uscendo un altro Sel. Mamma mia, ragazzi. Credo di non aver fatto mai una multi... Allora, diciamo che valgono soltanto... Alla fine... Broly e Sel. In questa multi. Però credo di non aver fatto mai... Quasi una multi con così tanti SSR. LR. Cioè, ragazzi, ma che è sta multi? No, datemi un secondo che io la devo... Devo fare la fotografia... E porca miseriaccia, la devo mandare un attimo perché è del clamoroso sta roba. Mo' ragazzi, ci finiamo il giro perché sono altre 100 stone, eh. Altre 100 stone. Ci finiamo il giro. O ci teniamo le... Io vi dico la verità, sarei molto tentato da tenermi le stone. Io l'avevo dimenticato. Io l'avevo dimenticato. Mi pare che l'ho trovato nel vid... No! Quando li ho trovati sti qui? Se non li ho... No, se non li ho trovati nel video di stamattina... Se non li ho trovati nel video di stamattina, non li ho trovati in un altro video che... Sempre non vedrete sul canale, però vedrete. Ragazzi, proviamo, dai. Proviamo. Va bene, va bene. Va bene. Non fa niente, dai. Vabbè, mo' non esagerate con la seconda copia di Cell, ragazzi, eh. Non esagerate, mo'. Ok, ho detto tutto. Già quello non era minimamente previsto, però... Non esageriamo. Niente LR, vede, ma probabilmente... Altrimenti mi dava Veget Blue. Cioè, se si fondono... O mi dà Veget Blue e mi dà LR, oppure non me la dà. Però, caspita... Eh, minchia, speriamo Black Int. Speriamo non fra Black Int e... Ah, quando mi danno sti fake out mi fanno proprio... Ah, mannaggia, la miseria. Pensavo che eri seria. Va bene. Va bene. Black Fisico. Che, attenzione, nel Global avevo se non sbaglio d'Ability 1. Quindi porto d'Ability 2 e Black Fisico e... È bella rubettina. È bella rubettina. Ah, mannaggia, la miseria. E voilà. E voilà. A voi. Mannaggia, la miseria. Ma che è stasera? Ma perché non ho pullato stasera a tala roba? Eh, quindi non mi lamenterei assolutamente. Da free to play, quindi ho tradotto, so, massima soddisfazione. Tanta roba. Ciao ragazzi, ciao a tutta la chat e anche un Metal Cooler. Cazzo vuoi di più? Eh, ci siamo fatto comunque la multisummon dei Black qua. Esatto. Al top, al top. Oh. Urdimissima. Vabbè, dai, ci sta che una multi me la dà male. Ok, ok, ok. Ragazzi, io vi dico la verità, a sto punto comincio a sperare, ma più per voi, anche per la vostra sanità mentale, soprattutto. Che non esca più niente. Eh sì, che ora non esca più niente da sta multi e pure dalla prossima. Perché altrimenti io... Ma in live di così, ragazzi, dovete che vada. Ciao, salto, ciao ragazzi. Eh, se fossi stato in voi avrei già quittato da una vita, eh. Cioè avrei già chiuso la live. Fa schifo vedere tutte queste cose in un colpo solo, eh. Eh, lo so, raga, che c'è l'audio un pochino in ritardo con Dokkan. Dammi un attimo, ok. Ok. Ma quello sempre, ragazzi. Vediamo che esce. Ciao Dark, ciao ragazzi. Ma comunque va che ho riaperto il canale, eh. Sto tornato a streammare. Vai, raga, andate a seguire tutti i righi. Ehm. Ma con il culo che ti ho portato me li devi portare con la carriola, gli utenti. Va, fa un culo, Blasi. Ti voglio vedere. Mannaglia. Te la Coca-Cola, oh. Sanzoni che... Ma pensa che mi sono fatto portare la pizza per asporto e ho detto, no, portami anche una bottiglia di Coca-Cola. Vedi? Allora, questa... Questa pure me la tengo come buona. Questa pure me la tengo come buona. Però è GL e buttalo via, cazzo. Probabilmente non Dokkan Fest è più forte del gioco. Questa pure me la tengo. Me la raffo proprio. No, no, ma Angeli e Ricchi sono gay, grazie. Se sono io ricchi e gay, grazie. Me la raffo tutta questa. Ciao ragazzi. Mi piace, mi piace. Allora. A posto. Beh, devo ricordarmi come cazzo faccio a ostarti nel mio canale. Io vado con l'ultima, eh. Sì, ragazzi, ma sta roba che sta succedendo stasera? Vabbè, piccolo Yamcha, ragazzi. Abbiamo fatto proprio... Siamo anche con la prima non ti è riuscito un cacchio di animazione. Eh, ma guarda è stata... Ma è stata una roba clamorosa la prima. Ma è stata una roba clamorosa. Cioè, non ha il minimo senso quello che ho visto. E lo dico io per primo. Blazzi, ma te che sai tutto, come faccio a ostarti su... Non lo so. Guarda, proprio di sta piattaforma non mi domandare niente perché non... Vabbè, ti vogliamo bene uguale. Eh, meno male, meno male. L'importante è volerti bene. Non è colpa di me. Perché misurare il volere bene dalle mie conoscenze di Twitch non va a mio favore. Non è un buon sistema. Esatto. Ci andrei a perdere a prescindere. Blazzi, mi sa che ti segnalo alla postale, ragazzi, ma domani... Guardalo! Ma mi sa che mi vado a segnalare io domani. La fuck so. Ragazzi, clamoroso comunque. Meramente clamoroso. Dai, dai. Questa qui ve l'ho proprio regalata. Me la sono regalata e ve la regalo come multivuota brutta brutta proprio questa. Che bello. Che bello. Beh, insomma, hai voluto mostrare il tuo lato umile al popolo, dai. È bello questa parte tua. Allora, io mi voglio andare a vedere negli acquisiti che abbiamo trovato. Ragazzi, questo è un giro. Questo è un giro. E in realtà vi dico anche una cosa. Questo è in totale, in totale, il secondo giro da Cell. Perché nel primo giro ho trovato... Nel primo giro ho trovato i Cell Junior. È l'unica carta del banner che mi manca, non vi direi. Però, vabbè, tanto non sono esclusiva. È un po' come Broly e GL. Quindi quelli li puoi trovare pure dall'altra parte. Ma perché? Eccoli qua. Ho trovato i Cell Junior e... E magari un altro Black Physico mi pare di aver trovato. Però per il resto... Ragazzi, questo è un giro, caspita. Sì, hai fatto un giro della Madonna, oggettivamente. Mamma mia. Broly a GL come Rear Salmon, tanta roba. Broly Finsidio. È vero, però dicono che è la Free, è vero. Tu sei la Free da fare. No, no, l'ho già fatta la Free, l'ho già fatta. Era l'ultima? Sì, sì, era l'ultimissima. No, no, l'ho già fatta la Power Vitale. No Octavio... Grazie a tutti.